Daniele Faggiano, gli auguri per i 115 anni del Trapani da un uomo che è stato molto importante per il Trapani. Buonasera a tutti, colgo l'occasione prima di tutto per salutare il popolo trapanese e tutti i tifosi trapanesi. Per me quando dico popolo trapanese è tutta la cittadinanza, perché tutta la cittadinanza di Trapani, Tifa Trapani, sono molto vicino alla squadra. Colgo l'occasione al Trapani Calcio per fare gli auguri dei suoi 115 anni di storia e ne sono orgoglioso di averne fatto parte e di farne parte, e lo dico con molto orgoglio ed emozione. In questo momento siamo un po' tutti così, non si può festeggiare, non si può abbracciare qualcuno, salutare. Io abbraccio tutti da lontano, cerco di stare vicino e nello stesso tempo sono felice che vedere che le iniziative della Curva, che è sempre stata vicino a chi ha avuto bisogno, è sempre stata vicino a noi, sia nei momenti buoni che in quelli brutti, perché non sempre farsi sentire vuol dire che non faccia bene alla squadra. Saluto di nuovo tutti e sappiate che sono uno di voi, va bene? Un abbraccio a tutti, buona serata e forza Trapani!